Sono Massimo D'Alessandra, coach dei Cine di Milano. In occasione della seconda convention, che si terrà il 3 e il 4 novembre, vi parlerò della sicurezza sui campi di football americano e italiani. Parleremo anche a livello medico di concursione e encefalopatia traumatica cronica e nuove tecniche di allenamento per ridurre gli infortuni di aspetto numerosi.